Nel corso delle attività investigative condotte della Polizia di Stato, volta al contrasto del traffico di stupefacenti, sono state restate nelle scorse ore a Milano due uomini, uno di Nazionale Talbanese e uno Svizzero, residenti a Torino, gravemente iniziati di detenzione di circa 33 kg di cocaina. Gli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Torino, coadiuvati dai colleghi della sezione narcotici della mobile della questura di Milano, hanno preceduto inizialmente al controllo di un cittadino albanese di 30 anni, mentre a bordo di un SUV faceva accesso in un'autorimessa sotterranea di un paese dell'Interland milanese, dove sono presenti diversi garage. All'interno di un box di cui l'uomo possedeva le chiavi, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 21 panetti del peso di un chilo ciascuno contenenti cocaina, oltre a materiale utile al confezionamento della droga. Il trentenne aveva anche 5.000 euro in contanti. Con altre chiavi, trovate in suo possesso, gli investigatori hanno individuato anche un appartamento in uso a un cittadino svizzero di 64 anni, dove nascosto all'interno di un mobile con le ante bloccate c'erano altri 11 panetti del peso di un chilo circa ciascuno, dei tutti identici a quelli trovati precedentemente nel box auto. Inoltre, all'interno del mobile erano nascosti 76.000 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, una macchina a contasoldi e diverso materiale utile al confezionamento della droga. Il valore della sostanza sequestrata, al dettaglio secondo le attuali costi di mercato, avrebbe fruttato alla coppia di complici circa 2 milioni e mezzo di euro. Il Jeep di Milano ha convalidato gli arresti.